Ciao ragazzi, dunque ho trovato la VEV di Philip Morris e quindi poi faremo un video con calma adesso tanto la voglio provare subito perché ieri un mio amico l'aveva, ho provato, sembra carina, ma poi vabbè io l'ho comprata perché mi piace come, cioè è una piccola pod però ci sono tante cose positive che mi piacciono di questa pod, una è il fatto che si può interfacciare col cellulare, puoi regolare un sacco di impostazioni e l'altra poi mi piace comunque il fatto che hai la stessa assistenza come dell'IQS, quindi se ti si rompe ok tu telefoni all'assistenza, loro ti mandano il messaggino col codice, te la cambiano senza tanti problemi, sapete che a volte nei negozi con le sigarette elettroniche, insomma quando non funzionano a volte ci sono problemi, non è facile perché ti contestano sempre qualcosa, ci sono anche quelli che vabbè te le cambiano, però no così mi piace già per questo e poi ora voglio provare, questo mio amico mi ha detto guarda è già da ieri che ce l'ho e lo sto usando cioè da ieri fino a praticamente la mattina successiva, quindi più di un giorno, mi ha detto che la cartuccia gli è finita poi nel pomeriggio, quindi gli è durata quasi due giorni, sì mi ha detto qualche sigaretta l'ho fumata perché lui fuma, però mi ha detto sono riuscito a fumare molto meno, stando a lui che comunque è una persona un po' particolare per queste cose perché ne ho provate tante, anche io, però lui cioè io ho viavo sui riscaldatori di tabacco e sigarette elettroniche, sigarette io proprio diciamo che le ho quasi abbandonate del tutto, difficile che fumo perché mi dà proprio fastidio, non mi piace più, lui invece è uno che se non riesce a trovare soddisfazione per esempio poi torna alla sigaretta tradizionale, detto da lui io mi, cioè mi ha fatto buona impressione perché per dirmelo lui vuol dire che insomma deve essere valida, io ho provato a fare qualche tiro, qualcuno in qualche video ha detto che colpo in gola non ne dà, io qualcosina l'ho sentita, vedremo poi io inizio a provarla adesso, ho già installato il software è tutto, poi vediamo e poi farò una piccola recensione, vabbè non mi piace dire recensione, lo sapete perché non ne faccio recensioni, faccio solo, aiuto, mi stava cadendo il telefono, faccio solo casino vabbè ci vediamo prossimamente, mi raccomando iscrivetevi al canale